Altre 3 milioni e 209 mila euro per una scuola di Sala Consilina. È arrivato infatti il via libera per i lavori di adeguamento sismico della struttura che ospita il liceo classico Marco Tullio Cicerone e le scuole medie Giovanni Camera. Il relativo protocollo d'intesa tra la provincia di Salerno e il comune di Sala Consilina è stato firmato giovedì mattina a Palazzo Sant'Agostino e da breve i lavori saranno appaltati. Il programma dell'amministrazione comunale che si è incentrato tantissimo sulla sicurezza nelle scuole per i nostri studenti, per gli insegnanti e per tutte le persone che la frequentano. Abbiamo avuto un altro finanziamento che in realtà già era stato emanato ed era destinato per l'Istituto Tecnico Industriale. Nel momento in cui però l'Istituto Tecnico Industriale rientra nel progetto di scuole innovative del Campus, nel quale è prevista già l'abbattimento e la ricostruzione dell'Istituto Tecnico Industriale, all'inizio dell'anno scorso mi sono recato dall'allora Presidente della provincia, Dottor Giuseppe Canfora, per far delocalizzare questo investimento di 3.209.000 euro dall'Istituto Tecnico Industriale all'Istituto al Liceo Marco Tullio Cicerone, che comprende anche la scuola media Giovanni Camera. E quindi, trattandosi di un finanziamento destinato alla provincia, ma di carattere ministeriale, si doveva chiedere l'autorizzazione al Ministero per la delocalizzazione di questo finanziamento. La richiesta è stata fatta, ci è stato concesso ed oggi, insieme con il dirigente dell'area tecnica, ci siamo recati in provincia a Salerno per far firmare ai due tecnici il protocollo di intesa in cui il Comune assumerà la progettazione e la direzione dei lavori sotto la guida del RUP che rimarrà la provincia che farà la gara per i lavori. Certamente è un intervento molto importante di 3.209.000 euro che riguarda l'adeguamento antisismico, quindi un ulteriore intervento su un'altra scuola a Sala Consilina. Credo che stiamo continuando in quella che era una priorità della nostra amministrazione e credo che entro maggio massimo dovrebbe essere appaltato il lavoro per fare questo tipo di intervento. Io voglio ringraziare prima di tutto l'ex Presidente della provincia, Canfora, perché non era così scontato e così semplice che questo investimento su cui Sala Consilina insieme alla provincia aveva lavorato, aveva programmato, aveva investito, potesse essere delocalizzato su un'altra scuola perché essendo dei fondi provinciali potevano essere anche destinati su altri istituti, però devo dar merito all'onestà intellettuale dell'allora Presidente Canfora che ha detto che era un finanziamento che doveva rimanere a Sala Consilina perché l'amministrazione comunale aveva operato bene e doveva raccogliere il frutto del suo lavoro. Ringrazio anche l'attuale Presidente della provincia, l'ingegnere Lizio e l'ingegnere Denigris che hanno sottoscritto il protocollo d'indesa per aver raggiunto questa forma di accordo perché ci rendiamo conto che la provincia deve tenere sotto egida 158 comuni, 140 scuole e quindi diventava difficile poter affrontare anche questo tipo di operazioni.